Il Brasile è un circuito dove non ho mai vinto e dove muoio dalle a voglia di vincere. È uno dei circuiti più speciali, più storici. È fantastico da guidare, con un grande clima, una bella nazione e dei tifosi molto appassionati. Sarebbe molto emozionante per me poter vincere a Interlagos perché la casa di Ayrton Sen è il mio pilota preferito di tutti i tempi che ha avuto un impatto incredibile sulla mia vita, per cui vincere a casa sua sarebbe molto speciale. È un circuito in senso anti-orario, con un rettilineo molto lungo, ottimo per superare, che ha anche un po' di inclinazione. Poi c'è una parte del rettilineo piatta, si frena verso una lunghissima curva 1, la parte centrale ha una lunga curva destra a doppio apice che va in salita, poi si arriva ad una sezione di tornanti che sono in salita e in discesa, poi si torna verso il rettilineo dei box, da molto in basso si va in salita. Penso che siamo anche ad un'altitudine piuttosto elevata, per cui è duro per i motori e è un circuito molto abrasivo sulle gomme anche per via del calore, per cui è una pista molto fisica. I cambiamenti di regolamento sono stati ok quest'anno, abbiamo avuto l'ala posteriore mobile che è andata piuttosto bene, penso che ci abbia consentito di sorpassare ancora di più dell'FDAC l'anno scorso e le persone si sono divertite, è un buon equilibrio perché a volte è troppo facile superare, altre volte c'è soltanto la chance di avvicinarsi e quindi di tentare il sorpasso, ma mi sono divertito davvero.